Da Olbia è il secondo step nel precampionato. La Siriga Savellino è pronta per il torneo meridiana. Alle 18 la semifinale contro la Dinamo Academy Cagliari al Geo Palace. Subito dopo la sirena finale, in campo il Banco di Sardegna Sassari e la Virtus Segafrido Bologna. La Scandone si presenterà con il formato visto ad Ariano Irpino, nel primo test con la Giova Scafati. Solo dall'avvio della prossima settimana, lo staff tecnico irpino avrà a disposizione Bruno Fittipaldo, rientrante dall'Uruguay dopo l'esperienza in nazionale nell'America. Alle 17.30 a Tel Aviv, in campo anche Ariel Figlioi con la guida di Ettore Messina e del coach della Scandone Stefano Sacripanti. L'Italia sfida l'Ucraina nel secondo match dell'Eurobasket. Praticamente in contemporanea in gioco, tanta Scandone in più versioni. Avellino con lo sguardo ad Olbia per un torneo giudicato così dall'assistant coach Max Oldoini. Interessante, ci saranno un test con una squadra di A1, però ciò non toglie che noi adesso dobbiamo alzare un po' l'energia, fare un pochettino meglio nei momenti dove ora non possiamo allenarci troppo. Per l'assistant coach di Scafati, Alessandro Marzullo, Avellino può puntare a confermarsi nelle prime quattro in Italia. Ho visto molto bene Scrub, che mi sembra un giocatore di grande intelligenza, di grande senso tattico. Secondo me la squadra potrà sperare di fare un buon cambiato, magari confermare almeno il risultato degli ultimi due anni.